Ciao ragazzi, qui per Anormal Comics, benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi andiamo con 10 pacchetti che forse saranno gli ultimi o tra gli ultimi sul canale Perché è già maggio praticamente, quindi non credo che ci saranno altri video, forse sì, non lo so, poi vedremo Abbiamo ancora un bel po' di mancanti, nello scorso video abbiamo trovato i tre mancanti In questo video cerchiamo magari di fare altrettanto, sarebbe comunque una buona cosa Beh sì, ne mancano 29, ce la potremmo fare Partiamo con uno che già sappiamo che è doppio, il che non è bene Quadrato, no, basta quadrato Quadrato, serie B Coglia, oddio potrebbe mancare in 520 Ma non è un artista una volta Oh bega, è di italiano, anche di 4.42 lo abbiamo De Iola, 4.49 lo abbiamo Il primo pacchetto, molto triste Va bene Capita Vediamo un po' se in questo secondo pacchetto riusciamo a trovare Dai, almeno una mancante Rabiot, ce l'abbiamo Vioreciccio ce l'abbiamo, credo Sì, credo Sì Poi squadra dell'Inter ce l'abbiamo Biraghi Anche Tribb Non lo so, 176 Sì Scudetto della Samp che penso abbiamo 425 Tutti i scudetti seriali? Niente, anche questo secondo pacchetto è stato molto molto triste Eh, vediamo un po' Se la mani non è fortuna Scuotimento e ne troviamo 10 mancanti in un pacchetto Aspetta, ne escono 5, ne troviamo 10 mancanti Siamo tutte 29 le mancanti Esatto, un unico pack E quel pack si chiama busta Che arriva dalla panini Dopo che è ordinato Allora Mamaducoli Balì 541 Non l'abbiamo Ne trovo due Ok Il signor Barba che Ha poca barba Vabbè Pace 68 Il signor Laurini Ce l'abbiamo sicuro Scuoletto del Venezia Bellissimo Non è più bello Però ce l'abbiamo Quindi Niente Per ora tutte doppie Dai, dai, dai Hashtag 22 ragazzi Io ci credo Hashtag 22 Dobbiamo trovare la 22 Siligardi 158 Doppia Freuder 49 Doppia Scuoletto del Benevento Doppio Scudettini Scudettini doppio Questo molto figo Bello Molto figo questo qui in basso Però No Bonifazi 535 Doppia Mamma mia Dai Vabbè ragazzi Siamo alla fine Ci sta pure Dai Però dai Almeno la 22 Proprio per soddisfazione Personale Trovare la 22 Vi giuro Sarebbe veramente All'ultimo pacchetto Allora Se abbiamo la 22 Mi offri Come c'è Vai Andata Ti offro una pizza La chiamiamo una pizza E la mettiamo nel montaggio Maia e la Lazio Ce l'abbiamo 318 Sì Vabbè Le abbiamo completate Maglie e Scudetti Forse le abbiamo completate No Yes Vabbè Maglie non proprio tutte Davvero No Forse si adesso Poi Gabbiadini 446 Ce l'abbiamo Annaccia E Dumpard 444 Ce l'abbiamo 444 444 Gatti Infine per 6 Con il resto Di Eh Quanto è il resto Forza Fai il calcolo rapido Forza Matematico Andiamo Ragazzuoli Io la sento La 22 Tra questi 5 pack Signori lui manca Simon Son Son Ce lo puoi fare E' il 391 Siiii Ve l'ho detto che mancava Il signor Giampaolo 527 ce l'abbiamo Un culu Ce l'abbiamo Eh si ragazzi ce l'abbiamo Vavro Ce l'abbiamo Ragazzi La 23 La 24 Però la 302 ce l'abbiamo Vavro Però l'abbiamo Trovato il signor Son Io mi accontento anche Di una sola mancante Non è male Non è un risultato Bastoni lo abbiamo Me lo ricordo proprio Però per scrupolo Te scrupolo E invece no Manca Ma che cazzo Ti ricordi No ma allora Sono segnate male I ricordi No sono segnate benissimo Allora non ho mai portato Le figurine Me le portate tutte le figurine Che ha aperto Guarda Scusate Controlla nell'album Controlla Io ho attaccato tutto La lista dovrebbe essere aggiornata La lista è corretta Ma no ma Io ti ho portato tutto quello che ho aperto No A quanto pare se manca Sì ma ti pare E bastoni Forse un altro Ah è bastoni dell'Inter L'hai trovato No no Bastoni questa faccia qui Senti non c'è No nessun album non c'è Incredibile Ragazzi Forse Scordare verso le strade Non so Devo controllare Ma io ti ho portato tutto quello che ho aperto Sì mi sa di sì Sì Dobbiamo Dobbiamo controllare Secondo me sei confuso col bastone dell'Inter Mi sa proprio di sì 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 La capitazione cantante Cantaci una canzone Ma che ne sai dei sogni Che ne sai dei sogni Ah No Pure la 22 No 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 è un po' indietro 12 E poi cragno Vediamo un po' 116 Manca Manca Buona Stiamo trovando di tutto ragazzi Madre Mamma mia 25 Le mancano solo 25 Ce la faremo in due pacchetti a trovarla Vado io? Sì Ragazzi No non mi interessano le 25 Mi interessano le 22 Ragazzi Loro Mazzocchi Garbro Zamparò Ciao Il signor Barbarossa Che poi non ha la Barbarossa Che sta dicendo Va bene Non c'è Vidal Lo abbiamo Il signor Gomez Bellissima carta Ma l'abbiamo 14 14 Allora Un pacchetto Potrebbe essere l'ultimo Vai Sei tornato A te l'onore Te lo scuoto Dai Te lo scuoto io Vai Ti prego 22 22 Vai C'è Ora c'è Quindi Ti trovo la 22 Ti offro la pizza L'ultimo pacchetto della stagione Potrebbe anche non esserlo In effetti Però Non lo sappiamo Allora Stropo Oddio Lo sai Le abbiamo gli alleatori Ma non so se ce l'abbiamo 163 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Voi dove 512 L'abbiamo L'abbiamo Isai Isai 355 Ce l'abbiamo L'abbiamo Chiudiamo madre Un kanji Il kanji 507 L'abbiamo 506 Manca Allora 536 517 Manca la 508 Ragazzi Solo per dire Vabbè ragazzi Abbiamo alla fine 25 Che mancano ancora 4 mancanti in 10 pacchetti Ragazzi Tanta roba Il punto della collezione A cui siamo Direi che Vanno più che bene E tantissima roba ragazzi Sono veramente ottimo E sono felice Per finire l'azione di cantanti Signor briga Di collezione Per cui possiamo andare Veramente Bello Bello ragazzi Sarebbe stato bello Trovare la 22 Ragazzi Non c'è se non c'era Va bene Fa niente ragazzi Fa niente Vabbè ragazzi Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Due cose Uno se volete Altre con mai Altri pacchetti Perché magari Potrebbe non essere L'ultimo video Questo qua effettivamente Potrebbe ragazzi Dipende da voi Dipende da voi Se ci riempite di like Qui sotto E poi soprattutto ragazzi Fateci sapere Se volete le collezioni Di Euro 2020 Che ormai è 21 Esatto Ormai è Euro 2021 Però lo chiamano Euro 2020 Giustamente Per continuità Anzi Diteci anche un'ultima cosa La terza cosa Voi l'avete la 22 Perché Veramente Secondo me non esiste Sta figurina È introvabile È introvabile Ragazzi Ma secondo me Noi abbiamo aperto Penso più di 100 pacchetti A voglia Ma penso abbiamo aperto Due box Possiamo vedere Graficamente Io non so dove Che manca E sono guarda Oh che figo Sì è il cartonato Che c'è questo È veramente figissimo Che figo Sì è la prima volta Che hai visto l'album Di quest'anno È molto bello 22A Che è l'album Del 78-79 E 22B Che è l'album 2008-2009 Madonna Ma come si fa Non lo so ragazzi Non lo so Se non me l'ho aperto Sta a casa Ma speriamo Guarda controlla a casa Che se c'è Ma ragazzi Piccolo momento In cui io Vedo un attimo L'album Che non l'avevo ancora visto Ma tranquillo Questa è la più amata Sì è stata attaccata Sì è attaccata Quando vado più È arrivata Nell'uscita Particola degli aggiornamenti Della TIN L'ho attaccata io Oh Veramente Sì 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 Non sembra No ragazzi Mi sono perso una collezione Che è della roba Sì 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 Non ti preoccupare È una figurina extra Ok Non l'ha attaccata Ah si Deve ancora fino Attaccare a cui Trasferito Ovviamente Sostituito Comunque siamo Un ottimo punto Della collezione Sì sì Ne mancano 25 Ha chiamato Amsic No Maradona Maradona È frate Il Napoli Chi poteva essere Amsic Che ne so È troppo giovane Ragazzi È bello Devo dire È bello Alla grafiamo come sempre Ve l'ho perso ragazzi Vedete la nazia cantante È vero Sono anche Mi ricordo dove sta Alla fine In pratica Cioè Il fine della feria Eccolo qua E il signor briga Ora è completa E tra parentesi C'è Bobo Sinclair Che hai trovato tu Che non capisco Perché è una nazia cantante Che è italiana Però va bene Salmo C'è Rocco Alto Ragazzi Vabbè Bellissimo Vabbè Niente Ragazzi Che dire Possiamo chiudere Ragazzi Vi sono perso tutto Vabbè Ma niente Fateci sapere Quindi Tutte queste Cose nei commenti Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Se ancora lo avete fatto Beh Da Paranormal Comics È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella